Cos'è la mialgia del trigemino? La mialgia del trigemino, chiamata anche nevralgia del trigemino o ticdoloreux, è una condizione dolorosa che colpisce i nervi della testa e del viso. Provoca improvvisi scoppi di intenso dolore al viso. I medici trattano la mialgia trigeminale con farmaci e interventi chirurgici. Il nervo trigemino, o quinto nervo cranico, trasporta informazioni tra il cervello e il viso. Questo nervo ha tre rami. Il ramo oftalmico invia informazioni sensoriali alla fronte, alle sopracciglia e alle palpebre, il ramo mascellare trasmette sensazioni al naso, zigomi, il labbro superiore e la mascella superiore, e il ramo mandibolare porta informazioni nella parte inferiore della guancia, il labbro inferiore e la mascella inferiore. La mialgia del trigemino di solito colpisce il ramo mascellare, ma alcuni pazienti soffrono invece di dolore nel ramo mandibolare. La condizione si verifica più spesso nelle donne di mezza età e anziane. Alcuni pazienti più giovani potrebbero sviluppare mialgia trigeminale se hanno un disturbo nervoso degenerativo primario come la sclerosi multipla. Questa condizione è caratterizzata da raffiche rapide ripetute di intenso dolore lancinante o lancinante. Molti pazienti lo descrivono come una sensazione simile a una scossa elettrica. Di solito fa male solo su un lato del viso. Gli attacchi variano in durata e frequenza, a seconda del paziente, ma tendono a peggiorare sia in lunghezza che in gravità man mano che la malattia progredisce. Le attività quotidiane come masticare o deglutire il cibo, lavarsi i denti, stare all'aperto nel vento o lavare il viso possono provocare attacchi. Gli episodi di solito si verificano durante le ore di veglia. Alcune persone perdono massa corporea o si disidratano perché preferiscono evitare di mangiare o bere piuttosto che affrontare il dolore. La mialgia del trigemino non è pericolosa per la vita, ma alcuni pazienti che soffrono di questo disturbo diventano depressi e paurosi. Temono attacchi ed evitano attività che potrebbero scatenare il dolore. Alcune persone addirittura si suicidano. Un medico di solito esegue un esame fisico per escludere altre condizioni prima che lui o lei diagnostichi un paziente con mialgia trigeminale. Il medico potrebbe ordinare scansioni con tomografia compoterizzata, CT, per escludere altri problemi neurologici come un tumore al cervello. Lui o lei potrebbe anche consigliare al paziente di vedere un dentista. Il medico cura i sintomi della mialgia del trigemino con farmaci come la carbamazepina, un farmaco comunemente usato per prevenire le convulsioni. I medici affrontano casi gravi tagliando o congelando chirurgicamente i nervi. Questo offre al paziente solo una pausa temporanea dal dolore, la condizione di solito si ripresenta entro un anno dall'intervento.